Il presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo, ha annunciato le sue dimissioni per il 28 luglio, a cui seguiranno le nuove elezioni il 28 e il 29 ottobre. La decisione è stata presa dopo l'inchiesta Iblis a Catania, che lo vede indagato per mafia, ma che lui ha sempre giudicato come un travisamento da parte della giustizia. La libertà dall'incarico consentirà a Lombardo di seguire le vicende giudiziarie da vicino. Il presidente, nella sua conferenza stampa a Palermo, ha affermato che non si cadiderà di nuovo alle elezioni di ottobre e ha spiegato la data del 28 ottobre per la non cocomitanza con le elezioni nazionali, che dovrebbero avvenire a marzo. Il presidente ha poi lasciato intendere che attualmente non ha individuato nessun possibile candidato come suo successore e ha detto che il futuro lo vede impegnato nel suo Movimento per l'Autonomia, che non abbandonerà. Ha concluso il suo intervento smendendo le dimissioni degli assessori Giuseppe Marino e Marco Venturi e ha rivelato che, nonostante l'invito della Prefettura a partecipare alle iniziative per la strage di Capaci, lui non intende muoversi, dichiarando che ha spiegato le sue opportune ragioni al Capo dello Stato.